Ciao, sei davvero sicura che la festa del tuo matrimonio sarà divertente e che tutti i tuoi ospiti salteranno, balleranno e parteciperanno attivamente? Proprio come nel video che hai appena visto? E sì perché lì fuori molti musicisti ti promettono feste da sogno e lo scenario è che non si pensa mai al caso peggiore, ma quante volte è capitato un matrimonio palloso, con gente spenta, annoiata ai tavoli, che non vede l'ora di fuggire via? Sai cosa devi fare per evitare questo? Clicca sul primo link in descrizione e scarica subito il video esclusivo gratuito che ho preparato per te, dove scoprirai quelli che sono i sette segreti per avere una festa travolgente con ospiti scatenati fino a tardi, esausti per essersi divertiti e con il sorriso stampato in faccia. Ciao e ci vediamo dall'altra parte!